Nooo che palle Ho sbagliato un attimo i calcoli Ragazzi nei video di oggi io e Luca ci andate a sfidare In un modo veramente incredibile Giocando un'ora in pubblica Ci siamo messi in paglio ascoltate bene 100 euro per chi riusciva a fare più kill In questa ora Non vi spoilerò nulla anzi un qualcosina No 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 Ok 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 adesso basta Vedetevi sotto nei commenti chi secondo voi ha vinto questo fight Fatevi adesso scrivetelo Vediamo in quanti lo indovinate Detto questo ora mettetevi comodi preparatevi a guardare questo video Veramente bellissimo prendete qualcosa da mangiare Mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace Che tanto è gratuito e controllate di essere iscritti al canale Perché molti di voi guardano i miei video Ma non sono iscritti cioè guardate qua la statistica Ah e in teoria per tutti quelli che iscrivono al mio canale Rush si innamorerà di voi Provare non costa nulla Ora vi lascio il secondo video Il mio collo cercatore ZenSG grazie a tutti quelli che sono il mio collo cercatore Siete i migliori Adesso mettiamoci comodi e buona visione Ehi ehi fermi tutti Prima di continuare con il video vi volevo parlare dello sponsor di oggi E sto parlando di OneGain Zen che cos'è OneGain? OneGain è un'app che ti permetterà di fare soldi Sfruttando la vostra connessione internet Ah ovviamente non ci diventerete ricchi Ma qualche soldino al mese potrete farlo Qua sotto in descrizione trovate l'app di OneGain Potete scaricarlo da qualsiasi tipo di device Che sia Windows, Mac oppure Android E appena entrati usando il mio codice ZenSG avrete subito 5 dollari In omaggio sul vostro account Poi vi basterà far partire l'applicazione E inizierete a fare i vostri primi soldi Ovviamente potete farlo contemporaneamente con molti più device E poi quello che dovrete fare sarà far partire l'applicazione Con appunto la connessione internet accesa Ovviamente potete farlo con più device contemporaneamente Quindi potete guadagnare con più device contemporaneamente Detto questo voglio precisare ancora una volta Che questa applicazione è completamente legale Potete farci qualche soldino al mese Per pagare l'abbonamento di Netflix, Spotify, eccetera, eccetera E nulla, io vi lascio il commento in descrizione e il link E ora vi lascio con il video E buona visione Eccoci qua in lobby Rospo hai rotto il c***o Vieni qua a dire me lo No, sta salendo le scale Che palle, sta salendo le scale Con chi stai registrando? Come il mio fratello Sempre col c***o Sì, con lui Ma perché ti chiami ancora Smokamiara? Dopo devo cambiarlo Come mi chiamo un dicembre Rospo? Sì, giocamente Dopo mi chiamo Ma guarda che c'è già un dicembre Rospo Serio? Sì Un dicembre Rospo trattino basso No dai, fermo, non toccando il mouse Dai che c'è il codice ZenSG a posto Vai, stai sereno Basta Dai, vai a fare le tue live Vai a fare casino dal vivo Vai a farle irle Allora, adesso Vieni qua Vieni qua, vieni qua Ti ho notato che ti ho comprato un piccolo Ma Ma mi hai comprato un piccolo E allora Ma dai 1200 V-Bucks Ma sei tutto stupido Ma è pure brutto È bellissimo bro Auguri Senta ciò Ma c***o Allora A parte questo Oggi siamo qua Con quel Pier Baudo Quel Pierino Quel topolino Di Lucas Chi è? Io non so chi sia Io non so chi sia Buongiorno Ragazzi, buongiorno Come state? E nel video di oggi ragazzi Io e Lucas andremo a sfidarci con 300 euro in paglio 150 mesi da me E 150 mesi da lui Una cosa veramente incredibile ragazzi Che Lucas metta 150 euro in paglio No, allora Una cosa incredibile Che tu non mi scambi per una sfida Io ho guardato il video Io ho guardato il video dove mi hai scammato per il pass battaglia Ti devi vergognare Ti devi vergognare Allora io pensavo che tu usassi lo spasoro Quindi ho fatto le piccole porcate Non è vero perché Hai detto palesemente Spas viola E io ho preso lo spas viola Io non l'ho detto Io non l'ho detto Sì, prendi il pump e viola Perché il pump e viola? Perché sì Pump e viola, vero? Sì, sì Non mi hai scammato e hai preso lo spasoro, vero? Ok, forse sì, l'ho detto Detto questo Lucas andiamo in partita In partita che sarà un wager in pubblica E giocheremo un'ora intera in pubblica E vincerà questi soldi Chi farà più kill in pubblica Abbiamo un'ora di tempo Quindi Lucas direi di far partire questo timer Com'è che facciamo partire? Con Alexa? Alexa, con Alexa Alexa, timer un'ora Vado, vado, vado Alexa, timer un'ora Un'ora Ok Ci vediamo tra un bel po' Lucas Ora sono in caricamento Oh, siamo in caricamento insieme Prima la B insieme No, no Perfumarlo Eh sì, Lucas Allora, siamo in lobby insieme Da dove l'è? Da dove cosa il tuo, il tuo, il tuo coso? Eh, io non sono ancora entrato Ok, allora ma dovete siamo insieme Vediamo, sono entrato ora Attenzione, prima partita Prima la B insieme con Lucas Oh Oh, sono in lobby Il bus passa da Parco va a Pantano Non è vero Ci siamo in lobby insieme Allora, Parco? Sì, da Parco Vabbè, sopra dall'isolotto Verso Pantano, dritto proprio Allora no No Ok, meno male Sicuro? Sicurissimo, sicurissimo Ok, il tu da dove va? Il mio va da Napoli a Roma Interessante, interessante Bom, mi muto Buona fortuna E che vinca il migliore Ciao Ricorda, sentili kill Sentili kill Ciao ci sono Allora Ragazzi, bisogna fare più kill possibili In un'ora di tempo Io sono completamente fuori forma Perché non gioco da tantissimo E quindi Speriamo di fare bella figura Speriamo di non morire Speriamo di fare più kill possibili In un'ora ragazzi Non è semplice Perché Lucas gioca tantissimo Quindi Poi c'è un lama C'è un lama Attenzione Quella lama potrebbe essere interessante In pubblica e lama Sono importantissimi Facciamo una roba Io voglio quel lama Quindi atterro qua E prendo quello che c'è Se c'è qualcosa Uh, c'è pure il cazzo speciale No vabbè Con un inizio così Non posso che Veramente fare 30 kill win E poi sicuro Prima persona che trovo Ci muoio Però va bene così Allora Macchinina e si va Non devi sparire Fermati Ok Lo siamo fatti Buono Attenzione C'è uno da me Un 25Y Kill Odio Le pubbliche Non ci sono materiali Aspettate 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 Aiuto Oh mio dio Per potere che questo Non c'era un'idea Oddio Ma quanto sto rischiando No devo tornare Assolutamente ad allenarmi Sono peggiorato un sacco Non va bene Sarà sopra Lucas Sicuro Eh sì Lucas Il tipo qua Anche ho detto Lucas E ce lo portiamo a casa Pure lui Due kill Buono 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 Cosa è il tipo È lì che ci aspetta Ok ok Interessante No 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 Che palla È arrivato il rompica Oddio 3 kill 3 kill Andiamo ad andare via Che qua c'è È arrivato il rompipalle Andiamo ad andare via subito Ho finito i colpi No devo caricare No vabbè dai Ma cos'è sto schifo Non ho più mezz Non ho più mezz Oddio l'ho ucciso Quanto cazzo Codo 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 troppo Ma pure la nuova arma Sto tipo Non ho mai fatto così tanta fatica Per 4 kill Chissà quante kill ha Lucas In questo momento Ciao amico Boom Amico mio Oh Oh mio dio Ma io non sapevo C'è fosse ancora quest'arma Ok 4 kill Non penso che Lucas In questo momento Ne abbia più di 4 Vabbè in realtà si Potrebbe averne più di 4 Non è che siano tante kill Però speriamo di no C'è uno c'è uno Oh mio dio No No Sono morto ragazzi Battene Stanno fightando lì O è da solo No no È da solo che sta free buildando E uno che free builda così fa paura No no c'è uno dietro No Dai ma come ha fatto a aiutarmi Come ha fatto a colpirmi Ok ok questa è pericolosa 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 per nascendere a full box Aiuto Facemi in pace Aiuto Mi ero ucciso Con 18 di vita Devo quitare Devo quitare Devo fare il più kill possibile Allora Devevo segnarmene che ero fatte 4 Che palle però Attenzione Lucas che fighta Potrebbe perdere il fight Sarebbe un peccato Potrebbe perdere il fight Sarebbe veramente un peccato Vuol dire che Effettivamente sei morto Effettivamente sei morto Quindi non l'hai vinta Non l'hai vinta No Ma la win da 5 giusto Quanto da 3 Non da nulla Oppure si facciamo che da qualcosa Allora la win da 5 punti Seconda partita per me Alexa quanto manca il mio timer Quanto timer in un'ora Restano 43 minuti Eeeh Abbiamo di tempo Amico mio mi hai rotto il polca Andiamo in un posto frenetico Come prima Andiamo a parco Andiamo a parco Andiamo a parco Secondo me per assurdo L'idea di andare in tanti start E provare a fare tanti kill allo start Suicidarsi per poi uscire Non è male come cosa Eh bisogna vedere Perché fare 20 kill è difficile Perché più che altro La gente non la trovi Quelli che trovi Boh Sono dei mongral No 197 Per favore No ragazzi No non posso fare 197 Dammi la mia kill Godo No no Ok 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 25 white Per favore Niente ragazzi Li sto lasciando tutti i one shot E mi scappano tutti Non so come fare Dai per favore Non scappare Oh l'ho visto Per favore Evita di scapparmi Ah la skin più rara del gioco Quel tipo No È per forza 1G quel tipo Ah la skin più rara del gioco Non è la skin più rara del gioco È semplicemente uno skin Oh mio dio L'ho ucciso Devo giocare più aggressivo Se gioco cattivissimo Ce la posso fare 2 kill Siamo a 6 No ragazzi Abbiamo già 5 kill Buono Veramente buono Ma ragazzi Oddio 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 mio L'ho fatto Triple HS 37 HS Buono Rian Ronaldo Non ci credo ragazzi Ho ucciso Ronaldo Ho ucciso Ronaldo ragazzi Trovo titolo Cosa fai Cosa fai Cosa fai Amico mio Bro ti stavo spaccando un attimo Non c'è Oh le granate Quasi quasi Ma se le granate ci stanno Faitano E qua le granate serviranno Mi avvicino E tiro Vediamo se mi ricordo bene Sì Erano giuste Ma sbagliate Mamma mia Ho rinchiato tantissimo 3 kill Ok Ok 1 v 1 ragazzi Per 10 kill Eh bico mio Mi sa che sei morto Oddio 190 così Vai vai Quintiamo 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 Ma ragazzi Ma che cazzo Hai fatto 10 kill win Sono 15 punti Adesso segno Adesso segno Adesso segno Ah perché c'è un tipo qua Oh Lo sapevo che c'è chi non mi serviva Lo sapevo Ok E qua E qua No Quanti kill avevo 4 kill 4 kill Sono 8 kill Ok 8 punti A casa Bello Allora Lo spazio è troppo forte Quindi ogni volta che c'è uno con lo spazio Dobbiamo stare molto attenti Che cosa mi ha fatto 200 Tipo Alexa Quanto manca il mio timer Come 27 minuti Ho solo 9 punti No no Devo assolutamente darmi da fare No 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 Uscio questo Se muoio da questo Dissello il gioco Ok La cosa grave Che ho pure rischiato Mamma mia Che HS Buono 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 Eh l'ho tolto 40 E torna comunque qua E questo è uno serio A casa Otro kill Buono Oh cazzo No ma vai a fare Basta Ma basta Andate tutti via Perché sono morto Ah beh non ce voglio credere Che vale questa season Con le navicelle spaziali Avevo 4 kill Zitti 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 Ma cos'è Oh ragazzi ma cos'è Ma cos'è Via 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 C'erano tre ufo Uno sopra l'altro Pusha mi Fai schifo Fai schifo Allora Io odio le navicelle spaziali Io odio le navicelle spaziali Odio 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 Le odio Comunque siamo a 12 punti Che palle E così che si spara Di continuo proprio Devo fare così Ah l'ho visto E lì Se non puoi sconfiggere Ti devi alleare a loro Che schifo sta navicella Comunque Godu 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 Oh mio dio Ragazzi Vabbè ma troppo sempre Di giocare così Guarda qua Pusha Mi fa che non pusho Checco No 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 Mi uomo Quante kilo Che palle Ragazzi non ce la faccio Più La faccio più Due kill Che merda Alexa quanto manca il mio timer Alto timer Un'ora restano undici minuti Undici minuti Ok Non è vero No ragazzi Mi incazzo Io mi incazzo Io mi incazzo Che palle Oh che saltino Ma ciao Un'altra kill Gratuita Let's go Questi sono già due punti Ragazzi questi sono i punti Che ci servono Questi sono i punti Che ci servono Non penso che Lucas Abbia fatto peggio di me Quasi impossibile Anzi se Lucas Ha fatto peggio di me È veramente assurdo Vai No 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 Non vanta white Eh? Ma che cazzo vuol dire? Smoke Non è vero Non è vero Non è vero Ma non sei tu Non è vero 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 Sei scarsissimo Lucas ma avevo mezzo Sei scarsissimo Non è vero Quanto e chi l'hai fatto? L'ho tre Ma te Lucas hai vinto la partita? Die Allora niente Alexa quanto manca il mio timer? Alto timer Un'ora restano sei minuti e trenta secondi Lucas serie hai vinto la partita? Io ho fatto dieci killwin Te lo giuro Bon quetta Hai vinto Io ho fatto 4,8,12 Io ho fatto otterci punti Se tu hai fatto dieci killwin Hai già vinto comunque la partita 14 punti Allora Lucas Lo vedrai nel video Alligna tutte le parti Davicelle spaziali che mi volano Mi buttano giù Anche a me Ma è ingiocabile È ingiocabile Non ci posso che vedere che ti occhi Ma Ma hai startato Ma no Ma io quando ho letto smoke a classic Stavo per mettermi il piangere Ho detto no 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 Se sapevo che quello eri te Lucas mi sarei concentrato Non avrei giocato così Ma poi con che arma mi hai acceso? Eh col pompa Eh avevo trenavo dieci di vita Una avevo mezza No io non ci posso credere Tutto mi sarei aspettato Ma non di killarti te lo giuro Vai qui Questo giro Lucas hai vinto In modo leale 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 Eh ma io dico sempre In modo leale Sei tu che mi scambi sempre Sei tu che mi scambi sempre Allora adesso ti invio i soldi Nuda ragazzi Noi ci vediamo domani Con uno video Mi raccomando alle 12 e mezza Quindi mi raccomando puntuali Nulla da senza C'è tutto Lucas saluta Bella ragazzi Cosa hai detto ragazzi? Ho detto bella ragazzi Ah ok Nulla Bella